Ripristinato da stamattina a Biceglie il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. In sostanza tornano attive le strisce blu su tutto il centro cittadino e sul litorale. L'amministrazione comunale ha affidato il servizio per un anno alla Gesto Park Società con sede Liguria, i cui addetti hanno esposto sulle auto parcheggiate all'interno delle strisce blu e continueranno a farlo per tutto il weekend, l'invito a regolarizzare la sosta. Una sorta di avviso di tolleranza che prelude all'operatività degli ausiliari fin da lunedì prossimo. Non cessano intanto le perplessità e le critiche alle modalità di avvio del servizio manifestate da alcuni esponenti politici dell'opposizione, segnatamente dalla consigliera comunale Giorgia Preziosa. Il servizio parte con criticità non di poco conto. Innanzitutto partiamo dal presupposto che questo servizio doveva essere internizzato al comune. Prima di avviare questa internizzazione del servizio nel comune, in realtà la stessa amministrazione che è quella attuale, non si è resa conto che ciò non poteva avvenire nell'immediatezza, dunque non ha effettivamente studiato bene le procedure, le modalità per creare questa situazione. L'opposizione non è che non vuole che il parcheggio sia a pagamento, è anche giusto che la sosta temporanea sia a pagamento, ma in realtà ciò che noi lamentiamo sono non solo le procedure di come è stata affidata la gestione dei parcheggi e le modalità di come questa nuova gestione avverrà bensì da oggi. Modalità e tempistiche degli abbonamenti, attuale impossibilità di pagamento con carta bancaria e mantenimento in servizio dei vecchi e ausiliari restano i principali nodi evidenziati da Preziosa. Da oggi dovrebbe partire anche il servizio abbonamenti, ma in realtà il servizio abbonamenti non parte da oggi perché ci vogliono 3-4 giorni sino a che nell'immediatezza si concretizzi. Dunque bisogna approvvigionarsi di monetine e andare al pavcometro e fare il grattino. Il grattino non può essere pagato con una carta di credito, se non con EasyPak moneta. e ciò non va bene in quanto la gente deve andare a prelevare e approvvigionarsi con monetine per pagare questo parcheggio a pagamento. Ci sono altre criticità che riguardano anche e soprattutto gli ausiliari perché in realtà ciò che premeva e che preme ad un'amministrazione che si dispessa è salvaguardare i vecchi ausiliari del traffico. Grazie.